Buongiorno a tutti, sono Marco Guacci, Associate dello studio legale tributario LED Tax Hand. Oggi parleremo della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'8 luglio 2021 relativa alla causa numero C695 del 19, intervenuta sulla questione relativa alle modalità di calcolo del prorata di detrazione per le operazioni assicurative ed intermediazioni assicurative. In particolare, la causa riguarda una società portoghese la cui attività principale consiste nella vendita di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni. La società in questione proponeva in aggiunta una serie di servizi, tra i quali l'estensione della garanzia sugli articoli acquistati, proponendo un contratto di assicurazione stipulato tra un'impresa assicuratrice e gli acquirenti degli articoli venduti. Agendo quindi in qualità di intermediario nella vendita di prodotti assicurativi, l'importo della garanzia veniva aggiunto al prezzo del prodotto acquistato. La società, ritenendo che le vendite di estensioni di garanzia costituissero operazioni di intermediazione assicurativa esenti da IVA, non ha provveduto a liquidare l'imposta relativa a tali vendite, ma ha tuttavia detratto integralmente l'IVA versata a monte per l'insieme delle sue attività, nel corso degli esercizi precedenti, dal 2014 al 2017. Le autorità fiscali, pur confermando che le operazioni in questione fossero esenti da IVA e non dessero diritto alla detrazione, ha ritenuto che questa, in ogni caso, non potesse essere esercitata in misura integrale, ma soltanto per il prorata dell'importo annuo delle operazioni che danno diritto alla detrazione. In tale contesto, la Corte è stata chiamata a chiarire se le operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia dei prodotti realizzate da un soggetto passivo IVA che abbia, nel caso di specie, quale attività principale, la vendita di elettrodomestici, costituiscano operazioni finanziarie o comunque queste equiparabili, in virtù dei principi di neutralità e di non distorsione della concorrenza, ai fini dell'esclusione del rispettivo importo dal calcolo del prorata di detrazione, come previsto dall'articolo 135 paragrafo 1, lettera B e lettera C della direttiva IVA. La Corte, per stabilire se l'intermediazione della vendita delle estensioni delle garanzie debba considerarsi esclusa dal calcolo della percentuale di detrazione, ha preliminarmente osservato, da un lato, che tale operazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 135 paragrafo 1 lettera A della direttiva numero 2612 della Commissione europea, ed è quindi esente da IVA, e dall'altro ha sottolineato che tra le operazioni che in via di deroga non vanno conteggiate in sede di determinazione del prorata di detrazione, non figurano le operazioni di assicurazione e le relative prestazioni di intermediazione di quel citato articolo 135. Tale affermazione non può essere rimessa in discussione dal principio di neutralità fiscale. Infatti, se è vero che secondo questa costante giurisprudenza tale principio osta al fatto che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza tra loro, siano trattati in modo diverso ai fini dell'IVA, nel caso di specie non ci sono elementi per ritenere che le operazioni di assicurazione e quelle finanziarie costituiscano operazioni simili ai sensi di tale giurisprudenza. Ne deriva che un'operazione che si qualifichi come operazione di assicurazione ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1 lettera A della direttiva numero 2612 della Commissione europea, non può essere classificata come un'operazione di natura finanziaria e accessoria, così come previsto dall'articolo 174 paragrafo 2 lettera B e C della medesima direttiva 2612 della Commissione europea, in combinato disposto con l'articolo 135 paragrafo 1 lettere B e G della direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se essa abbia anche carattere accessorio. Alla luce di queste considerazioni, i giudici comunitari hanno dunque concluso che, ai fini del calcolo del prorata di detrazione, rilevano anche le operazioni di intermediazione relativa alla vendita delle estensioni delle garanzie effettuate nell'ambito dell'attività di vendita, nel caso in esame, di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, con la conseguenza che la percentuale di detrazione deve essere ridotta. Volendo confrontare la pronuncia della Corte con la prospettiva italiana, appare quantomeno ragionevole ritenere che vi siano delle difformità. Infatti, con riferimento alla disciplinaria italiana, le operazioni di assicurazione e le relative prestazioni di intermediazione si qualificano come esenti ai sensi dell'articolo 10,1 numeri 2 e 9 del DPR 633 del 72. Ai fini del calcolo del prorata di detraibilità, l'articolo 19 bis,2 del decreto IVA stabilisce che non si tiene conto delle operazioni esenti di quell'articolo 10 primo comma numero 27 quinques e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessori alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del progetto articolo 10. A differenza della disciplina comunitaria, secondo l'orientamento nazionale, le operazioni di assicurazione e le relative prestazioni di intermediazione sono escluse dal calcolo del prorata, se non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie alle operazioni imponibili. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e nel ringraziarvi per l'attenzione auguro a tutti una buona giornata.